Il piano casa del Veneto è fermo al palo. Nonostante le continue rassicurazioni sulla validità del piano del vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, il ricorso del governo alla Corte Costituzionale contro la legge regionale ha di fatto bloccato ogni richiesta di costruire. Sono infatti almeno 56.000 le domande di ampliamento abitativo che sono state raccolte ma successivamente bloccate, e l'incertezza sul pronunciamento della Corte rischia di paralizzare anche la presentazione di nuove domande, fermando di fatto ogni relativa attività edilizia. Nel contempo la Regione Veneto ha deciso di costituirsi in giudizio difesa del piano di fronte alla Corte, e l'assessore all'urbanistica Zorzato, con una circolare esplicativa, proverà a rimuovere i dubbi applicativi della legge riguardo le altezze, i volumi e gli oneri di urbanizzazione. Oltre a ciò saranno presentati dei correttivi alla legge in materia di rischio idraulico e di sagoma degli edifici. In risposta alle proteste ancora vive di molti degli amministratori dei comuni veneti, Zorzato intende proporre ai sindaci una procedura semplificata nelle varianti comunali per tutelare gli edifici di pregio. Alla fine, insomma, il piano casa sarà quindi modificato, o con una serie di emendamenti o attraverso un disegno di legge regionale, in attesa che oltre ad essere valido divenga anche esecutivo.